Ieri c'è stata questa presa di posizione di Conte sulla TAV, il Movimento 5 Stelle ha subito detto che la loro posizione non cambia, le sembra quella di Conte un'operazione più politica, come la legge? Conte e il Presidente del Consiglio capisco che è una difficoltà non da poco, perché si trova su una cristalleria politica molto fragile, di trovare sempre un punto di equilibrio tra due sposi politici e giuridici, perché hanno fatto un contratto che litigano ormai ogni giorno e che hanno messo il Paese nelle condizioni di vivere una propaganda elettorale continua, in un litigio continuo, in una conflittualità continua. Quindi un giorno deve dare un po' ragione a Di Maio, un giorno un po' ragione a Salvini. Quello che prendo atto è che scorrendo un pochino la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle e vedendo un pochino quelli che sono i loro punti di forza, non ce n'è uno che hanno mantenuto. Avevano detto no alla TAP e sono diventati C-TAP. Avevano detto no alla Tav e sono diventati C-Tav. Avevano detto no al Terzo Valico e sono diventati C-Terzo Valico. Avevano detto no all'ILVA e sono diventati C-ILVA. Avevano detto no al Terzo Mandato e sono diventati C-Terzo Mandato. Avevano detto che l'Italia non si doveva salvare in quel modo e adesso l'hanno salvata in quel modo. E adesso fanno l'autonomia e mi fermo per carità di patria, perché a un certo punto se mi fermo un attimo mi sembra quasi che il Movimento 5 Stelle sembra quasi essere diventato uno dei partiti che loro hanno contribuito a sconfiggere, quindi a proposito di specie di cui avevamo parlato prima c'è una involuzione in questo caso della specie, nel senso che di fronte a delle istanze programmatiche che sembravano anche condivisibili pur da parte mia che non sono un esponente del Movimento 5 Stelle mi par di capire da quando stanno al governo il tradimento politico dei loro valori è ormai elemento di fatto. Io credo che alla fine loro non hanno la forza per dire no alla tab, quindi la posizione del Presidente del Consiglio è quella che poi sarà attuata, magari faranno vedere che la modificheranno un pochino, sarà un po' più piccolina, ma di fatto sono diventati anche sitabili.